Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Con me a fianco faccio sì Comunque ora che non c'è isa Ok l'ho fallito Abbiamo fallito il trick Non so come si chiama cecchino con l'arco Poliziotto trick Sono un campione Capua come sta andando qui l'artificiazione Ciao Felix Eh però Oh dio Epsi Absolutely Fortuna al 3 oh mio dio Grazie Li uniamo questo a questo Spada invece Lama sferzante rimane ancora Vabbè facciamolo prendiamo lo stesso Lama sferzante Prendo lo stesso Solo lama sferzante è uscito Vabbè La spada fa schifo Vediamo se possiamo trovare qualcosa Porco dio No 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 fermi Non è successo nulla di che ho detto ho messo io il blocco di Tranquillo Lo blocco io Lo blocco io esatto Ci sta ci sta Ci sta Ma Ok dicevamo Ehm Ah raga però dai Perfetto Vedete la live Si si la faccio vedere in live Ah raga però non è giusto E Cosa è successo Avete visto qualcosa voi Niente io ho visto il viaggio che veniva qua Andava sull'acqua Atterrava perfettamente Ehm E nulla poi Si Pacchiava sul letto Guardate 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 No, ma... perde! Sì, ma poi ricordami di far la tipa Ma qui gioca durante, però No, vai dritto in 6, allora Mi sa che era un po'? Beh, io vado, ciao Io vado, ciao Lord No! Ricord, ricord, ricord Sì, sì, sì Perché stai solo? Perché non c'è nessuno di me Eh, vengo a un grande bordo Non c'è mai visto una bomba in maratona così grossa qua giù Questa è veramente bomba Ma ha detto che c'è stato un cantero abusivo qua Mi faccio controllare uno poco Com'è che sono morto? Ah, questa no? No, troppo... Allora... No, così divento troppo picciato Picciato... Allora, sono commissario Windjester Addio, che sta qui ragazzi Metti la fiafuta Wewe, capo, sono commissario Sono, cazzo Che è già successo? Guarda, ha fatto un'esplosione Ma dai, ma... Attraverso il muro Ma dai, vai a cagare, vai The fire Eh? Nooooo Mi dissocio Mi dissocio, da quello che ha detto Wewe, stupido E scrivo alla pischella E scrivo alla pischella Comunque quella che è Più interessante Le chiedo di uscire domani Ok? Le chiedo di uscire domani Nooooo No, non lo faccio Ringrazio qualcuna Eh... Si? Ma chi è? Aspetta Canepirata No, ma anche Matteo No, Matteo l'ho fatto io L'ho fatto io Ah, l'ho fatto io Canepirata Canepirata Quindi... Canepirata, complimenti che ti sei riscritto Riscritto Per... Due mesi Complimenti No, 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 così C'è un gesto perché sennò Scusate Anzi, non è così, così Come si fa? No, è così, i soldi Che cazzo è il trender? Porto il peso Porto il peso Di avere casa libera E fare su fare voglia E non io Ma scusate, ma magari non lo possiamo sapere Se non ci sono persone Anche perché ieri abbiamo parlato di... Di... Di una certa persona che si è fidanzata relativamente da poco E letteralmente i tuoi occhi sono diventati... Kawaiiii Kawaiiii Tutto... Tutto a tenerella Col... Con i cuoricini al posto degli occhi Ma io non mi sto scrivendo con nessuno Certo, certo Che stiamo facendo? Stiamo facendo una... In un secondo, ok, ti l'ho rinforzato Ok, Simone, non possiamo farci dire altra giura Sono carato giù È stato benedissimo Ma io me l'ho visto proprio Clippate, clippate No, no, cosa fai? Non quit, non quit Clippa student È un coperato come motte Ma c'è già pastepisei con le motte Valle è infinto PNG Bello Enix Io vedo molti più si Io vedo che lo sfondo vi piace comunque sia Vedo che lo sfondo vi... No, what? Che cazzo? Ma... Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? No, non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Pissà via No Non puoi